ciao ragazzi oggi stiamo tornando sul canale big man di Matteo Caruso oggi saremo all'aperto e ci divertiremo molto che sta succedendo a mio fratello? Antonio? andò guarda chi c'è cosa? tu non sei ancora iscritto al canale? tu non ti iscrivi dentro 3 secondi ci arriverà questa pecora a casa tua guarda questa qua è la pecora che mia mamma si è cresciuta da piccolino con la bottiglia di latte questa è quella pecora raga lì c'è pure il caneroti non ti mangiare raga stava mangiando la stacchetta che uso io per fare i video Sean basta ok raga non mi va a chiamare la pagliella raga capendo che questo video lo farò da solo penso ok raga oggi non ci sta solo sciolto in giro per il mondo Sean ma stanno quelle capri che ora non so dove stanno però raga da qualche patto dovrebbero mai stare raga andiamo dai conigli raga un nuovo conigli ha fatto il video adesso ci stanno in giro andò non ti vuole dare addosso raga ok raga è successo l'imprevisto Sean non sta mi seguendo a mio fratello è stato molto direttamente questa cosa raga è entrata la raga è entrata con la capra raga è entrata con una raga non fate caso che è entrata una capra là dentro raga quella è la femmina di capra che vi ho detto che è riuscita Sean Sean raga guardate lì quello è il mio amore lo sapete raga è il mio amore ciao Sean aiutare ha aumentato una pietra nella scarpa ok uè Sean non mi pensa più va niente ciao raghi raga lui è il mio cane allora sapete che oggi è il complaine di mia cugina pensi è il complaine di mia cugina raga e qui c'è la gabbia aperta perché sono riuscita e abbiamo fatto uscire un po' le capre qui stanno tutte le galline tutti i tipi qui stanno i buccini tante mosche qui ci sta rocchi qui ci stanno io qui ci stanno i maiali pensi raga qui stanno i maiali guarda che c'è un altro grande uno e due quell'altro grande si chiama Carolina ora cadevo giù qui stanno le galline che sono uscite oh se ci stanno i otto rocchi le piante i poni ci sta molta roba nuova devo dirlo molto bene raga qui stanno le capi che abbiamo scelto lo sapevo le dentine ciao raga e andiamo giù laggiù un piccolo taglio se no ci rompiamo le scato allora fine laggiù e farò vedere il resto degli animali raga e è buono raga e mentre vado a mettere un stop raga è più possibile mentre arriviamo là vi devo dire una cosa iscrivetevi al canale lasciate like e condividevi questo video comunque non ve lo ascoltate capito si capito capito eh come allora raga andrei a seguire anche su tiktok mi chiamo bigmatimati9 questa qui stanno le farone e le galline vedete all'improvviso l'avevo pure bloccato raga sto tenendo più deficiente come di sempre però questo non è naturale raga mamma mia allora quindi stasera dovrò andare a festeggiare come anno e mia cugina e festeggia due anni molto bello molto bello oggi festeggia due anni yeah che vorrei festeggiarlo io scomperanno però vorrei festeggiarlo di due anni perché non voglio essere grande voglio essere baby guarda quanto i miei occhi eh e quando sei piccolina che è proprio grande quanto l'occhio eh raga oh raga il video è da 5 minuti che sta durando mamma mia così poco va invece su Call of Duty ah raga perché oggi vi uscirà il primo video di Call of Duty e poi uscirà il video di ehm eh questo video qua prima uscirà il video di Call of Duty comunque raga ehm e quello è durato due minuti ma è durato 22-25 minuti non ricordo neanche perché questo video lo sto registrando di fila mi ha finito quello che ci stanno qui sui fila vaga qui ci stanno proprio che stanno guidando il secondo mio fratello mi ha abbandonato insieme a nulla con voi iscritti ok ben simpile ben simpile ragazzi a proposito se uscire il collegio 6 che dovrebbe uscire allora allora reaction al collegio va bene vedete come fare perché devo per scaricarmi là perché ci sta insieme perché quel lato lì oh raga lì ci stanno i conigli ciao conigli ciao ciao invece qui ci sta un coniglio pasquale e lì dietro c'è la capra però questa è tutta un'altra cosa ok raga lì c'è la capra lì c'è un'altra capra qui questo è un albero dove qui sotto questo albero abbiamo chiamato albero del albero delle tombe perché qui in terra ci stanno tutte tombe di nostri animali no tombe lì o di acino o di mai altri tombe di lucertole mantiti o fa fallo pure una lucerta che è stata squartata molte cose mezzi quindi raga immaginata immagina quanto ci facciamo allora qui erano tanti il gazebo che stava in tutti quelli video ve lo ricordate l'hanno l'hanno corto e qui stavano le pedro pensavano in tutti quelli cosi raga un attimo di rilassamento per questo muro come rompi tu niente nessuno rompe mai ok raga raga vi faccio vedere un attimo il locale dentro con me così se volete ordinare qualche festa potete voi farlo raga raga aspettate un mot driven ti ringrazio perché il locale ed entro e poi vi farò vedere il come si chiama ffwe we ma vi farò vedere il numero di telulo così se qualcosa potete richiamare capito rega? raccettate questo il locale vedete consapevole invece upon the screen Con la confettata qua sopra E questa è tutta la sala shabi Per le cerimonie, per i matrimoni e tutto quanto Vedete? Mi piace Raga adesso Allora raga, per il momento ve la posso far vedere Perché sta più o meno disordinata Perché stiamo preparando La festa di mia cugina Raga per il momento Vi posso far vedere Solo il Sta parte qui, adesso non lo posso vedere Perché comunque è disordinato E dovremmo fare una festa Allora qui è Antonio Vedete? Ma non è bandone per tutto il video, lo sai? Allora raga, questa qua è la parte della pizzi Ah raga, ecco il cazzo di bucchi sali L'abbiamo usato per lavorare la sala Adesso vi porto al cartello a vedere Come si chiama Perché non posso far durare molto Allora lì ci stanno altre pecore, altre cape Buonasera Ragazzi, eccola qui Tenuta caruso Sala per eventi Ristorante Pizzeria Area picnic Maneggio Area per bambini Minizzo Oh raga, allora per il momento Il Raga picnic Il maneggio non ci sta Perché Si sta creando Anche questo è il numero 347 714 7216 Questo è il numero E raga E ci vediamo in prossimo video Ciao ciao Ah non c'è raga Prima che ci salutiamo Lasciate il like Iscrivetevi al canale Convidete questo video Mi lo segui su tiktok Mi chiamo Big Mati Mati 9 Prendo l'acqua E l'acqua E l'acqua Da me e Antonio Ci salutiamo Ciao ciao Eto saluta Ciao 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 ciao